Cosa significa stare in d'azione, in connessione, in amore? Come si vede nella spiritualità? Se io fossi in questo, allora io vedrei... Cioè, se io fossi in questo, così vedo la breccia fra il mio stato e lo stato spirituale. E questo stato è buono, perché io al di fuori di questa differenza, al di fuori di questa breccia, cioè fra quello che io voglio e quello che io ho, quello che io ho adesso dentro la mia ragione, e quello che io voglio, che è il grado di d'azione, il grado di Binah, dove mi piacerebbe stare, allora al di fuori di questi due gradi io ho questa distanza fra tutti e due. E allora con questo io posso attivare la preghiera al Creatore, la richiesta al Creatore, aiutami veramente ad elevarmi nelle mie qualità, nel poter arrivare alla fede, al di sopra della ragione, per stare in d'azione. Questo desiderio, questo desidero, perché io voglio avvicinarmi al Creatore, voglio essere simile a Lui, di poter raggiungere qualche livello di devegut, di adesione, e stare nella d'azione. Certamente questa richiesta, se questo proviene da dentro di me, che esce proprio da questo chissaron, da questa mancanza dove io sto, è quello che mi manca. Questo si chiama elevare il man. E allora io posso implorare al grado superiore, al Creatore, che discenda di più per me il potere della correzione, e allora io acquisisco un grado più elevato, che in me è fede al di sopra della ragione, e adesso io lo acquisisco come la mia ragione, come la mia visione. E allora io sto proprio in questo. Io comprendo e sento dentro della ragione. E allora dentro della ragione che cos'è la spiritualità? Allora ogni persona che lavora con la fede al di sopra della ragione acquisisce una maggiore e più elevata ragione, e in questo modo ascende dall'al di sopra della ragione a dentro alla ragione. Al di sopra della ragione e dentro alla ragione. Quello che prima era al di sopra della ragione, allora entra nella ragione e quindi si eleva a un grado più alto, che è quello che è al di sopra della sua propria ragione, e così ascende. E questa è l'unica azione spirituale che dobbiamo fare. Così è come vanno questi clip. Questi gradini, tu scali a un livello più alto, tu ascendi. Che significa stare in un grado più elevato, nel grado spirituale, in dazione, in connessione, in adesione. In tutti gli stati che potremmo immaginare, io provo ad adattarmi, ad adattare a me stesso a Lui. E allora chiedo al Creatore di elevarmi a una tale qualità di dazione, a una tale qualità di binà. e se possiamo raggiungere questo, se con la mia mancanza vera, o invece di immaginare di stare in d'azione, in amore e connessione, io già sto in questo, in questa misura. Allora, io posso... Bene, certamente io ringrazio il Creatore. di permettermi questa preghiera e risposta. Io faccio una lode, un ringraziamento, di permettermi di elevarmi al primo grado spirituale. E allora? Come deve essere stare in un grado superiore? Di vedere con gli occhi del Creatore. di vedere con gli occhi del Creatore la realtà. E allora nuovamente vedo la breccia, la distanza fra il mio grado e il suo grado. Al di sopra della ragione, dentro della ragione. Al di sopra della ragione, così chiedo al Creatore che mi elevi. perché io desidero stare in questo. E così è come lavoriamo. Provatelo. Avremo più lavoro fra di noi. Noi potremmo realizzare azioni. E questo si chiama Kabbalah Pratik. E questo si chiama Kabbalah Pratik. Grazie a tutti.